Siena Milano, fascino, bellissima, equilibratissima, sarà, voglio dire, non mi ricordo il secondo, il primo era Carpo, non mi ricordo il secondo, sarà Casparo contro Carpo, bellissima, con due strateghi straordinari, con degli attori, giocatori fantastici di primissimo livello in Europa, indiscutibilmente in Europa, per una e per l'altra, e quindi diciamo che per allentare la tensione sarò un attento e curioso spettatore. Grazie a voi, buona serata.